Con il direttore sanitario della Ausle di Viterbo, Marina Cerimele, parliamo di un progetto che è stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori. Si tratta di un progetto relativo all'osteoporosi. Che cosa riguarda, come si articola? È un progetto che riguarda la prevenzione primaria dell'osteoporosi. Il progetto è nato dopo un'idea della sezione provinciale Avis di Viterbo che ha avuto in mente di poter fare qualcosa per le donne donatrici in età di menopausa. Quindi di prevenzione dell'osteoporosi per poter far sì che le donne donatrici, già donatrici, attraverso una serie di esami che riguardano l'osteoporosi, la prevenzione dell'osteoporosi, possano arrivare a donare il sangue quattro volte l'anno, quindi una volta ogni tre mesi, così come fanno gli uomini nel corso della loro vita. Da questa idea iniziale, attraverso il coinvolgimento anche del comune di Viterbo, è nato poi il progetto prevenzione primaria dell'osteoporosi che abbiamo allargato a tutti i pazienti della provincia che possono essere soggetti appunto a questo tipo di patologia. Quindi pazienti realizzati, oncologici, pazienti in terapia anticoagulante e chiaramente donne in età di menopausa, sia donatrici che non. Ecco, abbiamo detto donne in menopausa, in età di menopausa, quindi stiamo parlando a chi ci rivolgiamo? Ci rivolgiamo alle donne, ormai la menopausa diciamo è andata, inizia molto tardi, diciamo alle donne oltre i 50 anni. Quindi li invitiamo a rivolgersi poi presso il centro che sta già funzionando? Attraverso sempre il medico di base, potranno prendere, diciamo nel momento in cui diventerà operativo il centro, ne daremo anche gli orari eccetera. Per il momento stiamo cominciando a fare i protocolli, acquisendo tutte le attrezzature che sono necessarie. sta partendo il progetto, non abbiamo ancora aperto né al CUP né ne abbiamo ancora dato pubblicità, proprio perché stiamo ancora in fase di, diciamo, in stato avanzato dei lavori.